Invece abbiamo colorato della nostra allegria, della nostra forza, della nostra bestardaggine, la città di Bologna. Grazie a tutti e a tutti voi, uno per uno! Un saluto particolare a tutti i gay, lesbiche e trans che oggi non sono qui. Non sono qui perché avevano paura che venendo qui potevano essere fotografati e che magari i genitori potevano vedere loro su quella foto. Io mi sento vicina a queste persone, non mi sento di rimproverarle queste persone, perché sono quelle persone che vivono in famiglia dove si costringono i figli ad andare ripetutamente dallo psichiatra per guarirli. Diciamo una volta per tutte, ha bisogno di andare dallo psichiatra. Chi pensa di guarirci dalla nostra inguaribile voglia di amore! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!